La Francia, la Spagna, l'Italia, insomma... Allora, 25 aprile, primo maggio, ponti, iniziano i grandi esodi dei ponti e delle vacanze. Quali sono le mete preferite in questo momento dai fanesi? Ma visto che quest'anno i ponti sono messi male, sono corti, non si può fare delle grandi vacanze. Molti sono rimasti in Italia, le Terme, Ischia, Istria, Country House va molto Toscana, Umbria, Campania, Napoli, Lago di Garda, le capitali europee, logicamente Olanda, Spagna, Regno Unito. E sta andando forte anche l'Egitto, l'Egitto, Santo Domingo sono delle destinazioni che stanno andando abbastanza forte. Per tutti quanti qual è un po' il polso della situazione, qual è il costo medio della vacanza? Diciamo che con 500-600 euro, 700 euro a persona si fa ancora una bella vacanza. Se no, il nostro territorio offre tante cose a costi contenuti. Il nostro territorio offre tantissime cose, non avendo noi un brand importante, unico che tira, dobbiamo purtroppo o per fortuna mettere insieme tutta una serie di servizi che vanno dall'enogastronomia, dalla storia, dalla cultura, dall'arte. E ne abbiamo, ne abbiamo e ne abbiamo nella provincia di Pesaro. Abbiamo tre importanti gruppi dalla Svizzera che vengono il prossimo mese per le energie alternative.